Porto lo stesso oggetto in questa posizione, però modificando la sua posizione nello spazio, non solo perché lo traslo, ma anche perché lo faccio ruotare. Piazzo subito uno strutture block qua, lo apro, invece di salva, adesso vi faccio vedere, ecco, invece di salva, metterò carica, si chiama isolature, in fondo dove ho rotazione, posso mettere per esempio una rotazione di 90 gradi, vediamo cosa succede, carica, vediamo, me l'ho messo un po' in profondità, dovevo spostare la posizione del mio strutture block, adesso provo a scavare, così vedete, ok, se mi alzo in volo, vedete che è stato ruotato di 90 gradi rispetto alla posizione iniziale,